...cavaliere, no scusate, semifinale, prendi la coda del cavaliere, ho sbagliato io, scusate, dopo sono linciato anch'io se la pubblica piazza sarà linciato anche il capitano, va bene, si preparano, prendi la coda del cavaliere, la cella è Misano Monte Cella e Misano Monte, campo alla mia destra, Misano Monte contro la Cella Come ho fatto per le tue tere? Avete le code Cella? Ragazzi fatevele prestare, quella è colpa mia, l'ho dimenticato in macchina La Cella gareggerà con le code verdi perché è colpa mia, mi sono dimenticato io Grazie, ben vedere che ci prestate le code Sempre sulla pubblica piazza L'ho dimenticato sulla pubblica piazza, mia colpa Cella, per favore prendete posizione Intendiamo davvero anche gli arbitri giustamente La scelta la fanno nei prossimi anni? Mentre la Cella adesso è un stancho, ha ragione Tiro la fune Magari lo organizzano una volta Ok, mi raccomando ragazzi, non spingete, non buttatevi fuori e rubatevi la coda Allo stagio Misano Monte contro la Cella Se gli arbitri mi danno l'ok, diamo il via Dopo si prepara, Santa Monica contro Scazzani Che entra di diritto in semifinale E' il centro che non c'è Ah beh, mi dicevo che lo organizzano, adesso il primo lo organizzerà Misano Monte Il prossimo lo organizzerà Ah beh, mi dicevo Gli arbitri sono La decisione degli arbitri non si discute Verrete linsati sulla pubblica piazza Gli arbitri non si discute Bellissima la contestazione degli arbitri Ma gli arbitri non si discute Pronti? 3 2 1 Gioco ragazzi gli arbitri non discutete l'arbitri fu, l'avranno preso ah la cucitana sonora, ma sai ma non è mangiare tutti i suoi ma io tendo i posti, vai colori ma no, vado qui e mi tenete il posto mamma, vai colori no, lo tieni qui che ci guardi più chiamo la zia, la zia mamma, chiamala Chiara o la zia mi scusi grazie devo far venire la Chiarina? Chiara! vado a prendergli qualcosa, vuoi venire qui? no ciao! ciao! bene, bene, c'è competizione pronti? 3, 2, 1, gioco! non si apre lì grazie ok e scusate, non vedo, spostatevi di qui Paola, spostati però le squadre devono rimanere ognuno nei propri posti eh? vuoi dare? ok pronti? 3, 2, 1, gioco! come vedete la competizione si sta alzando le contestazioni mi stanno dicendo che una volta Misano era un paese pazifico era un paese molto pazifico ok ma domani non si sa pazifico gli arbitri non si discutono pronti? 3, 2, 1, gioco! dai dai, c'è ancora uno in cocco, eh, lì ma�ін sicuro non solo non sia allora dentro ha vinto Misano-Monte ha vinto a Misano-Monte già vado a misano-Monte acquisto oh both ecco qua le contestazioni il tifo un suono tifo grazie